buongiorno a tutti amici vi trovo qua con questo breve video per augurarvi un favoloso fine anno un fantastico natale e un meraviglioso 2020 faccio questo video per raggiungervi tutti quanti perché siete in tantissimi e ringrazio tutti quelli che in questo anno che mi hanno conosciuto e che mi conoscevano già mi hanno dato tanto così di buono e di brutto da aggiungere a tutte le mie esperienze e contribuire a quello che è il mio sogno un grande augurio se per favore anche tu che stai vedendo questo video sai che qualcuno che mi conosce non sono riuscito a raggiungerlo condividiglielo pure perché così raggiungiamo anche loro e gli auguriamo un inizio di un decennio nuovo meraviglioso adesso vado perché ho tante cose da fare un abbraccio a tutti quanti e vi aspetto nel 2020 vado mi aspettano notti molto impegnate ho tanti affari da consegnare ciao al 2020 ciao a tutti